L'hanno passato ha visto l'introduzione su larga scala di un calibro 28 Magnum e per cui direi che anche la Baschieri si sta adeguando alla proposta commerciale. Esatto, come hai appena detto è nata la prima arma dopo l'omologazione del calibro 28 3 pollici è nata quest'arma della Benelli che credo sia l'unica... Sì, su larga scala è l'unica e di conseguenza nasce la cartuccia 28 con bossolo da 3 pollici, da 76 quindi... Quanti grammi Marco? Sono 32 grammi a paragonare per intendersi nel calibro 12 a 3,54 grammi. Quindi una carica a tutti gli effetti Magnum, quindi diciamo che è un'ulteriore offerta per il cacciatore per utilizzare il calibro 28 anche su selvatici dove fino ad ora non era stato utilizzato. Certamente, infatti qua proponiamo anche diametri elevati quindi per selvaggina tipo lepre quindi più corposa, sia per la grammatura che la combinazione con diametri superiori. Perfetto, grazie.